buongiorno e bentornati sul canale oggi come potete vedere sono in versione leggermente mascolina bene questo è un video che ho deciso di fare insieme video in collaborazione insieme una bravissima ragazza che si chiama melany yt è una youtuber e fa dei video favolosi vi lascio il suo canale o qui sopra nella informazione o qui sotto nell'info box insomma adesso vediamo come come riesco a fare e questo è il makeup che ho deciso di creare per la nostra collaborazione carnivalesca ho deciso di ricreare la versione di un uomo molto sexy ovviamente perché è veramente molto sexy devo dire cosa ve ne pare bene se volete se siete curiosi di vedere come ho realizzato questo look mi raccomando vedete tutto il tutorial vedete guardate tutto il tutorial che ci sarà come al solito vi lascio il link per potervi per potermi seguire anche su social facebook instagram google più mi raccomando cliccate aprite l'info box mi raccomando lasciate un like se il video vi piace lasciate un like anche se il video non vi piace e niente ragazzi mi raccomando andate a guardare anche la proposta di melanie per il suo carnevale e come al mio solito bisous mon coeur dal vostro mario è tutto a presto Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.